molto bene riprendiamo i nostri incontri nel modo virtuale talmente virtuale che come potrete notare alle mie spalle c'è uno splendido panorama ma che si deve solamente grazie alle capacità tecniche del programma che utilizzo che il programma zoom non mi trovo purtroppo sfortunatamente negli stati uniti ma appunto utilizziamo tutto quello che la tecnologia ci può offrire per cercare in qualche modo di rendere anche più gradevole questa occasione di incontro che utilizziamo e continuiamo quindi come detto nelle nostre chiacchierate virtuali e proprio agli stati uniti dedicheremo l'incontro di oggi pochi minuti che settimanalmente utilizziamo appunto per raccontare quanto accade nell'ambito della politica internazionale e di fatto è passato un mese dall'ultima registrazione presentata e in quella occasione si commentava anche quanto accadeva proprio negli stati uniti perché dobbiamo ricordare che era il 3 novembre ormai 2020 che gli stati uniti si confrontavano con quell'importante evento rappresentato dalle elezioni presidenziali elezioni presidenziali che resteranno nella storia questo è un dato certo non per i contenuti espressi dai due candidati i programmi le varie intenzioni della loro politica quanto invece per quanto riportato in particolare da uno dei due contendenti quel donald trump che inevitabilmente nel resterà letteralmente impresso nei libri di storia anche per la sua per il suo modo lo possiamo definire tra virgolette alquanto originale di portare avanti i suoi principi politici donald trump ormai abbiamo imparato a conoscerlo sicuramente è una figura che tende ad estremizzare le situazioni ma una volta raggiunto quel 3 di novembre una volta che tutte quelle sue minacce indirizzate nei confronti della stesso della stesso sistema elettorale americano si sono poi vanificate perché gli innumerevoli ricorsi le vie legali che donald trump minacciava di fare e che poi di fatto ha anche attuato gli hanno dato sostanzialmente contro dobbiamo ritornare un attimino indietro nel tempo fare un po di storia non una storia estremamente lontana quanto piuttosto ai mesi che hanno preceduto il 3 di novembre 2020 mesi difficili perché gli stati uniti si sono trovati in piena pandemia il 2020 verrà ricordato appunto come l'anno del coronavirus che tutto ha modificato e che tutto modificherà perché poi se ci fermiamo un attimino ad analizzare quanto sta accadendo ebbene le conseguenze del coronavirus negli ambiti sociali negli ambiti geopolitici sono ancora poche per rispetto a quelle che che verranno in futuro negli anni futuri perché tutto è stato letteralmente scombinato tutto è stato letteralmente trascinato in un vortice del quale è difficile riuscire ad avere anche una capacità di previsione non è l'epidemia in quanto tale certamente l'epidemia è grave causa vittime causa purtroppo morti ma dall'altra parte ci sono state le conseguenze per limitare l'epidemia stessa delle scelte prese e che inevitabilmente hanno messo in evidenza quanto il sistema mondiale poi sia fragile e in particolare come detto gli stati uniti gli stati uniti che si sono mostrati alquanto deboli nell'affrontare una situazione di questo tipo e sorprendendo poi sostanzialmente l'opinione pubblica magari non abituata ad avere una visione maggiormente analitica sulle effettive situazioni dei singoli stati nel mondo donald trump riteneva all'inizio del 2020 che la pandemia sarebbe stata un qualche cosa che non avrebbe colpito così duramente gli stati uniti e invece tutto si è mostrato esattamente all'opposto gli stati uniti particolarmente colpiti il primo paese al mondo per numero di contagi il primo paese al mondo per numero di vittime e che in questo momento si trova ad affrontare ancora la situazione in piena burrasca potremmo dire così e non poteva che avere delle ripercussioni inevitabili nell'ambito del contesto del contesto sociale perché alle scelte prese per limitare la diffusione dell'epidemia sono corrisposti milioni di disoccupati e i numeri erano anche impressionanti per poi essere parzialmente riassorbiti ma l'impatto con il contesto sociale è stato decisamente duro tenendo conto anche che il malessere sociale poi è emerso e ha riportato anche a galla quelle questioni che poi di fatto non vengono mai risolte negli stati uniti e che tendono a riemergere periodicamente mostrando poi delle contraposizioni sociali perché dobbiamo ricordare la morte di george floyd per soffocamento con un poliziotto che gli teneva il ginocchio sul collo ha creato tutta una situazione che poi ha evidenziato come tutte quelle contrapposizioni anche nella stessa struttura sociale americana poi tendano ad emergere senza tener conto che le componenti sociali maggiormente colpite anche dall'epidemia di coronavirus sono state anche quelle maggiormente povere insomma tutto questo ha creato un malessere nel contesto degli stati uniti nell'anno delle elezioni presidenziali e donald trump in un senso o nell'altro è diventato la figura che per alcuni era la figura responsabile di tutto e per altri era invece la figura di riferimento la soluzione a tutto una letteralmente una spaccatura sociale nella società e che donald trump comunque ha cavalcato dobbiamo dire così non ha sicuramente portato avanti una sorta di distensione nel contesto della politica statunitense anzi se vogliamo certi toni molto accesi hanno di fatto infiammato ulteriormente il contesto delle elezioni presidenziali americane 2020 la comunicazione politica così importante così fondamentale le campagne politiche negli stati uniti tendono ad essere sempre più ricche di elementi di contrapposizione però è altrettanto vero che il giorno delle elezioni poi tutto si conclude perché da parte del candidato che esce sconfitto dalla competizione elettorale viene una sorta di avvicinamento di riconciliazione attraverso un semplice atto quello di riconoscere il candidato vincitore ma in questo caso invece ciò non è avvenuto donald trump già prima del 3 di novembre manifestava che ci sarebbero stati potenzialmente dei brogli e che avrebbe fatto ricorso delle vie legali cosa che poi effettivamente ha fatto a partire dal 3 di novembre quella settimana di verifiche di numeri di cui non si capiva poi in definitiva se donald trump avesse anche delle sostanziali prove in mano ebbene creava un'atmosfera di ulteriore tensione in un clima già atteso quello appunto del contesto delle elezioni presidenziali americane tutti i ricorsi non hanno portato assolutamente a niente di prove non ce ne sono state ma donald trump ha continuato a condurre questa linea di estrema contrapposizione allo stesso risultato in un momento particolarmente delicato perché non possiamo dimenticare che il sistema costituzionale statunitense si basa principalmente su dei percorsi a tappe una volta concluse le elezioni inizia un ulteriore percorso che viene chiamata la fase di transizione ovvero l'avvicendamento diciamolo così un avvicendamento tra il presidente uscente ed il presidente trante per dar modo anche alla politica di chi esce di avere una sorta di continuità nei confronti della politica di chi entra insomma un qualche cosa che se vogliamo rappresenta anche un aspetto di non poco conto se vogliamo anche un esempio per altri e per altri contesti ma la fase di transizione non partiva creando delle indubbie situazioni anche di imbarazzo è stata una funzionaria una funzionaria dell'amministrazione che poi ha dato il via a questa fase di transizione i toni di trump in quel momento storico si riteneva che fosse stato come dire una mossa anche di comunicazione politica una sorta di avvicinamento diplomatico mantenere le proprie posizioni ma contemporaneamente dare il via al percorso costituzionale ma insomma tutto questo poi ha perso di fatto l'importanza perché le questioni dovevano tornare ad essere nuovamente importanti ed infiammate in attesa di sostanzialmente cosa della valutazione da parte del congresso dell'effettiva vittoria del candidato Biden nelle elezioni ma in attesa anche che la Georgia esprimesse i suoi due senatori che avrebbero preso appunto posto all'interno del congresso americano un dato di non poco conto perché se in occasione delle elezioni presidenziali si elegge appunto il presidente anche una buona parte del congresso ovvero quello che noi comunemente chiamiamo il Parlamento una buona parte del congresso dei componenti del congresso viene nominata di conseguenza la camera dei rappresentanti passata come maggioranza al partito democratico attendeva la risposta da parte del senato perché i numeri erano assolutamente a favore del partito repubblicano e quei due senatori della Georgia erano in grado appunto di modificare la maggioranza del senato cosa non da poco in prospettiva per Biden per avere un Parlamento il congresso che lo appoggiasse nelle sue decisioni ebbene le elezioni in Georgia sono andate a favore proprio del partito democratico anche questo un aspetto di non secondaria importanza perché la Georgia ha sempre mantenuto sostanzialmente una vicinanza al partito repubblicano contemporaneamente però è altrettanto vero che quanto è avvenuto consentirà a Biden di poter governare per i primi due anni in maniera assolutamente tranquilla i primi due anni perché il sistema statunitense prevede quelle che comunemente chiamiamo elezioni di mid term cioè una fase intermedia che va a modificare leggermente gli assetti del congresso e lì sarà il primo banco di prova da un lato per l'effettiva capacità di Biden di condurre il sistema politico statunitense di saper appunto governare gli Stati Uniti ma dall'altra parte se il ricordo di Trump è diventato tale oppure se la presenza di Trump è sempre così importante importante perché poi c'è stato quanto è accaduto e che ha portato all'attenzione un'ulteriore grave gravissima fragilità da parte degli Stati Uniti perché in occasione della riunione del congresso per andare appunto a consacrare Biden di fatto come 46esimo presidente degli Stati Uniti in attesa di quella che sarà la cerimonia del 20 gennaio ebbene il palazzo del congresso l'abbiamo visto e sentito in tantissime occasioni dai sistemi mediatici è stato preso di assalto da un gruppo consistente numeroso di persone che non accettavano che questo questo percorso di autorizzazione di consacrazione di Biden a nuovo presidente appunto avvenisse è un qualche cosa che lascia particolarmente perplessi entrerà sicuramente questo aspetto in quegli incastri della storia americana che lasceranno spazio in futuro a interpretazioni a investigazioni, a tentativi di comprensione di quanto possa essere effettivamente accaduto perché nonostante si temesse che disordini ci sarebbero stati a Washington proprio quel giorno in quell'occasione aiutati fortemente dall'ostinazione di Trump di non volere accettare il risultato ebbene poi in definitiva si è vista anche una sostanziale impreparazione da parte delle componenti che avrebbero dovuto evitare qualsiasi imprevisto e l'imprevisto grave come detto c'è stato perché è stato un assalto vero e proprio al palazzo di congresso da parte di un gruppo di persone che si presentavano anche in una maniera decisamente pittoresca chi era vestito da Batman, chi era vestito con le corna di bufalo insomma una immagine stridente, le fotografie ci sono è sufficiente girare in internet per trovare video filmati e rendersi conto di quanto è accaduto ebbene un qualche cosa che stride perché queste persone in maschera queste persone che assaltano i valori simbolici della democrazia americana il palazzo del congresso poi si vede dall'altra parte una corrispondenza assolutamente drammatica rappresentata dal fatto che ci sono state delle vittime ben cinque vittime e questo è un dato assolutamente paradossale perché se da un lato con quei costumi si poteva pensare a una carne valata dall'altra parte invece ci sono i drammi e le tragedie e quello che colpisce in maniera particolare ulteriormente è il fatto è che il valore della democrazia negli Stati Uniti sia stato messo in grave discussione in grave discussione nel contesto di un paese che si è sempre fatto portatore di questo principio e portatore almeno a parole di essere un esempio anche per gli altri non è un problema da poco anzi è un problema estremamente grave che porterà a un'effettiva e a un'attenta valutazione di quello che è successo negli Stati Uniti proprio nelle ripercussioni mondiali perché se gli Stati Uniti si mostrano fragili nella gestione delle problematiche interne contemporaneamente in questo contesto rappresentato da questo 2020 in cui tutti gli assetti sono stati modificati in cui tutti gli assetti stanno saltando in cui la geopolitica si sta modificando ebbene uno di quei pilastri uno di quei punti di riferimento che appunto sono gli Stati Uniti come detto e se questo viene a mancare allora dall'altra parte diventa effettivamente se non impossibile alquanto estremamente difficile poter andare a interpretare che cosa potrebbe accadere nel futuro della geografia planetaria dove i giganti dove le componenti importanti sono presenti e sicuramente cercano anche spazi abbiamo ricordato più volte in passato come la Cina si stia muovendo e si stia muovendo anche in maniera decisamente attenta nello scenario della scacchiera della geopolitica mondiale ma gli attori sono tanti possiamo citare la stessa Turchia di Erdogan nell'area del Mediterraneo orientale del contesto del Medio Oriente non dimentichiamo ovviamente la Russia e questa Europa così disordinata con un Regno Unito che esce dal contesto dell'Unione Europea che vedeva quel Boris Johnson proprio in Donald Trump una sorta di sponda d'aiuto, di riserva che adesso deve fare inevitabilmente dietro front avvicinarsi all'europeista Biden e proprio da Boris Johnson toni accesi di contrarietà nei confronti di Donald Trump insomma le vicende di Donald Trump comunque sono lì presenti perché di fatto la politica americana in questo momento insorge e insorge sia ovviamente nel contesto dei democratici così come comunque nel partito repubblicano perché Donald Trump sì, Donald Trump è una figura il presidente il presidente che viene dal partito repubblicano ma non possiamo dimenticare che fin dalle elezioni primarie del 2016 Donald Trump era osteggiato all'interno dello stesso partito repubblicano non lo volevano una volta rieletto presidente degli Stati Uniti quindi immagine di una volontà di una volontà popolare che strideva con la volontà ideologica di un partito ebbene proprio all'interno di quel contesto di quel congresso era proprio il senatore McCain avversario di Obama che lo osteggiava maggiormente McCain repubblicano che lo osteggiava maggiormente all'interno del congresso ebbene in questo momento Donald Trump per il partito repubblicano in particolare rappresenta da un lato una risorsa ed un problema un problema perché episodi come questi che si mostrano questa ostinazione e poi gli eventi che si sono venuti a caratterizzare il 6 di gennaio ebbene sono qualche cosa di estremamente grave contemporaneamente una risorsa perché non possiamo dimenticare che Donald Trump in ogni caso ha ottenuto più di 70 milioni di voti nelle elezioni presidenziali quindi Donald Trump in un modo o nell'altro incarna se vogliamo la volontà di quasi la metà dell'elettorato statunitense che ritornando a quanto abbiamo detto inizialmente nella nostra chiacchierata ebbene proprio in questo 2020 così grave così particolare quel malessere sociale ha fatto di Trump il nemico da un lato l'amico dall'altro ebbene proprio in questa situazione Donald Trump è portatore di voti tant'è vero che c'è chi dice che in prospettiva nelle elezioni del 2024 Donald Trump possa addirittura ricandidarsi sarebbe una cosa nella recente storia assolutamente inedita o addirittura fondare un partito suo che possa raccogliere tutti questi voti ebbene una situazione complessa complessa nel momento in cui emergono anche delle sicure visioni contrastanti all'interno del partito repubblicano su come gestire lo stesso Donald Trump non possiamo dimenticare che all'interno del partito repubblicano ci sono delle figure che vorrebbero in un modo o nell'altro emergere nel contesto appunto delle capacità anche di concorrere alla politica grandi discussioni si fanno in merito a due elementi costituzionali statunitensi da un lato è ricorso il cosiddetto venticinquesimo emendamento della costituzione americana dall'altra parte si tratta dell'impeachment già visto più volte il venticinquesimo emendamento prevede la rimozione del presidente degli stati uniti un qualche cosa che è estremamente grave un qualche cosa un ricorso che comunque non piacerebbe neanche allo stesso partito democratico se vogliamo perché Biden teme che un'eventuale rimozione a pochi giorni sostanzialmente dal conseguimento dell'incarico di 46esimo presidente possa fare di Donald Trump poi di fatto un martire che anziché andare a perdere quel consenso tenda ad aumentarlo ancora di più e contemporaneamente un impeachment Donald Trump ne ha già avuto uno non sarebbe mai successo nella storia che un presidente degli stati uniti abbia avuto addirittura due impeachment già gli impeachment nella storia sono stati pochi Andrew Johnson Bill Clinton Nixon lo evitò e in questo momento Donald Trump addirittura due impeachment sarebbe un ulteriore record nel contesto della presidenza della presidenza Trump ma da parte dei democratici l'intenzione c'è e i repubblicani tutto sommato lasciano anche fare sebbene comunque in tempi tecnici di fatto non ci siano ma in ogni caso perché l'impeachment potrebbe essere una soluzione più per i repubblicani che per i democratici perché se di fatto Donald Trump dovesse essere poi condannato a seguito dell'impeachment non potrebbe più ricandidarsi alla presidenza degli Stati Uniti quindi questo darebbe come dire la possibilità al partito repubblicano di tentare di ricostruirsi perché poi di fatto il partito repubblicano è alla ricerca di una sua nuova identità mentre negli Stati Uniti questi gruppi particolarmente accesi rivoltosi già stanno minacciando in occasione del 20 di gennaio di fare nuove irruzioni nuove situazioni assolutamente preoccupanti ma tutto sommato vista l'esperienza precedente forse la capacità organizzativa statunitense sarà in grado di gestire in modo migliore quanto potrebbe utilizziamo il condizionale quanto potrebbe accadere quello che comunque emerge è una situazione di grande preoccupazione perché nel momento in cui gli Stati Uniti cominciano a dare in nome proprio della democrazia un senso di cedimento ebbene il mondo intero deve cominciare a pensare a una sorta di riorganizzazione gli Stati Uniti nel bene o nel male perché ovviamente dobbiamo prendere in considerazione tutto quanto gli Stati Uniti rappresentano e hanno rappresentato nella storia del Novecento nella storia dei primi venti anni del del nuovo secolo ebbene in questa situazione diventa complicato poter andare alla ricerca di quei punti di equilibrio di cui il mondo sostanzialmente ha bisogno devono esserci dei punti di equilibrio devono esserci dei punti anche di contrapposizione per andare alla ricerca di un ulteriore equilibrio ma in questo momento la fragilità interna dimostrata dagli Stati Uniti preoccupa e preoccupa molto Biden si troverà con un'eredità pesante un'eredità di dover ricostruire completamente un assetto sociale estremamente diviso e fortemente contrapposto all'interno degli Stati Uniti come mai si era visto contemporaneamente deve ricollocare gli Stati Uniti in una posizione di credibilità nel contesto della politica estera e di cui in questo momento stanno sostanzialmente perdendo di fatto dei posti e in questo momento si attende si attende questo 20 di gennaio non tanto per ovviamente l'aspetto della cerimonialità alla quale Trump ha già detto che non parteciperà in occasione di quella cerimonia anche questa è una cosa assolutamente inedita e non opportuna proprio nella direzione di quella conciliazione così fondamentale in una struttura sociale ma quello che è l'attenzione verrà posta l'attenzione mediatica si verrà a creare una vera e propria attesa rappresentata da eventuali reazioni da parte di gruppi che si contrappongono a quello che è poi di fatto il sistema il sistema america che comunque in un modo o nell'altro sta mostrando in nome delle difficoltà portate dal 2020 in nome di quello che sta accadendo forse necessita anche questo di un'effettiva rivisitazione perché le risposte al malessere non sono sicuramente le rivolte alle rivoluzioni ma le risposte al malessere sono sempre degli interventi che vadano nella direzione degli effettivi problemi di un popolo bene in attesa appunto di questo 20 di gennaio io a me non resta che salutarvi e dirvi arrivederci e nel frattempo come vuole la nostra piccola tradizione vado alla ricerca del pulsante per spegnere il tutto trovato un saluto di un saluto Grazie.